il cartello recita testualmente abete bianco altezza metri 42 circonferenza metri 4,63 età anni 200 240 circa il cartello dell 88 quindi per altri poco meno di 20 anni sarà cresciuta ancora presumo dire la circonferenza è in mezzo ci vuole il filobusse è andata e ritornavi è situato nelle due curve prima dell'inizio della salita della consuma appena sotto strada si vede anche dalla statale rifaccio la salita su 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 guardate che immensità questa è vista la prima la seconda guerra mondiale le guerre di indipendenza e tutto napoleone quasi si chiamano così occhi e croce perché 260 mila e 1780 1770